Dopo la roggia di Lanzi ieri, oggi Boboli, domani Palazzo Pitti e giovedì gli uffizi della Galleria delle Statue delle Uffiture, quindi abbiamo tutta una settimana di riaperture e in una situazione comunque ancora molto caratterizzata dalla pandemia, abbiamo proprio tutte le misure anti-Covid come tra giugno e novembre, abbiamo ripreso tutto, abbiamo ripreso le sanificazioni più intense, naturalmente si è sempre continuato anche durante la chiusura perché i musei, anche il giardino non si è mai fermato, all'interno siamo proceduti con i lavori, con i cantieri. Adesso però la possibilità per tutti i fiorentini toscani di venire a vedere le opere qua e questi spazi anche in particolar modo, i spazi all'aperto, quindi un particolare invito ai giovani, i ragazzi fino alle 18 anni hanno comunque sempre l'ingresso gratis, chi abbia tra 19 e 25 solo due euro, quindi mi sembra un bel luogo per passeggiare, un bel luogo per fare con il cellulare la didattica a distanza, magari anche in piccoli gruppi naturalmente congiunti e sempre secondo le norme, ma è un'opportunità che credo che mancava a molti di non poter entrare a Boboli. Grazie. Grazie. Grazie.